Uno dei helicopteri di search and recovery hanno toccato terra alle 7.13 minuti ero locale nelle steppe del Kazakistan i tre astronauti della missione 48 a bordo del modulo russo Soyuz. Il comandante statunitense Jeff Williams della NASA, gli ingegneri russi Alexei Yovchinin e Oleg Skriposhka dell'agenzia spaziale russa Roscosmos hanno trascorso 172 giorni a bordo della stazione spaziale internazionale in orbita attorno alla Terra. Restano ora a bordo della ISS per due settimane i tre cosmonauti della missione 49 l'americano Rubins, il comandante russo Ivan Ishii e c'è il giapponese Onishi sino all'arrivo del prossimo equipaggio. di 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 di